L'HDR. Il telefono scatta varie fotografie di una situazione con alti contrasti, in cui sono presenti delle zone di chiaro, scuro, molto forti, dove senza l'HDR sarebbe impossibile fare una foto bilanciata. Come funziona l'HDR? Il telefono scatta una serie di foto variando l'esposizione da meno 2 a più 2 rispetto a quella che individua come l'esposizione corretta, poi il software rielabora l'immagine e la ricompone restituendocela perfetta. Il telefono rielabora 10 fotografie. Il consiglio, tenete sempre il telefono con due mani e mai con una sola. E adesso che avete imparato tutte queste regole, potete partecipare al concorso Next Image Awards nella categoria Storyteller.